Questa storia non si meritava un video solo per lei, però insomma why not? Hello guys who's back, benvenuti, barra bentornati sul mio canale, io mi chiamo Ali, benvenuti nel io che vi racconto la prima e unica volta nella mia vita in cui ho sentito veramente che stavo per morire. Cioè non era una paura di morire, era proprio io sono sicura che adesso muoio, adesso vi racconto. Io sono una che soprattutto fino a qualche anno fa ha sempre viaggiato tanto, viaggiando tanto di aerei nella mia vita diciamo che ne ho presi, ne ho presi abbastanza, ne ho presi un moderato numero e non ho mai avuto paura di volare questo prima del mio ultimo viaggio in aereo che è stato due anni fa per una gita in Sicilia che ho fatto con la mia classe di qualche giorno e per cui abbiamo appunto preso l'aereo che comunque da qua in Sicilia era un'oretta di volo se non sbaglio. Non ho idea se fosse l'andato e il ritorno perché l'ho rimosso, comunque è poco importante per la storia. Il mio posto su quell'aereo era particolarmente sfigato, cioè ero da sola e non avevo nessun amico né davanti né dietro né da parte cioè ero sola nel mio mondo in mezzo sconosciuti. Inoltre quando sono salita, non mi ricordo per quale motivo, ma i miei auricolari che io di solito uso sempre sui aerei perché ne ho bisogno, ho bisogno della musica per stare su un aereo, altrimenti sclero, cioè non ce la faccio. E con la musica mi sono sempre trovata bene, non ce l'ho ancora mai stata senza niente, no? Senza distrazione e nulla, così a pensare a me stessa. Quindi per un motivo per l'altro che non ho idea del perché, i miei auricolari sono rimasti nel mio zaino che era il mio bagaglio a mano e sono finiti nello sportello in alto, no? Dei bagagli a mano. E prima che l'aereo fosse arrivato in quota io non avrei potuto prenderlo, quindi prendere i miei auricolari che sono rimasti là sopra. Quindi sono rimasta così. Da sola, senza amici, senza musica, a fare nulla per, non mi ricordo quanto tempo, ma tempo che comunque l'aereo decollasse, cioè ci avevano fatto chiudere le citture state tutti fermi, state tutti giù, che tra poco andiamo, cioè quel tempo lì da state tutti fermi, state tutti zitti, a ok siamo in quota, in quel tempo lì, nella mia testa è successo un delirio, ma proprio un delirio. Allora, comincia l'esperienza di me che sto immobile a pensare a me stessa senza nessuna distrazione mentre sto per decollare su una scatola di latta che vola per un'ora a chissà quante migliaia di vetri di altezza potendo cadere da un momento all'altro perché metti che qualcuno ha sbagliato, metti che nel motore c'è qualcosa che non va, non se ne sono accorti, metti che moriamo tutti, che il pilota è ubriaco, che il pilota automatico non va, metti che succede qualcosa, tipo in un film, metti che finiamo in un roba tipo il triangolo delle Bermude, ora lì tipo ok, potrebbe succedere qualsiasi cosa su questo Cristo di aereo e prima ho fatto questo pensiero, ok potrebbe succedere qualsiasi cosa, poi il pensiero si è voluto da potrebbe succedere qualsiasi cosa, oddio forse cado, a ok sono sicura che cadiamo, sono sicura che moriamo e non ho neanche potuto chiamare mia mamma, mia mamma mi aspetta a casa, non ho potuto chiamare nessuno mio papà, la mia famiglia, i miei amici che sono a casa, nessuno sa cosa sto facendo adesso magari non sanno neanche che sono morta e lo scopriranno dal telegiornale e non sapranno chi chiamare magari l'aereo scompa, sono sicura che qualcosa succede, sono sicura che moriamo, ci cura 100% che cade questo pensiero brutto e mi sono messa a piangere, cioè ho cominciato a piangere istericamente che quei due che avevo da parte che erano tipo wow, non so chi, che probabilmente avevano pensato che io fossi completamente andata fuori di testa perché stavo piangendo istericamente da sola e non riuscivo a smettere perché continuavo a essere sicura del fatto che sarei morta cioè continuavo adesso muoio, adesso muoio, cioè è finita, la mia vita è finita così, non potrò fare nient'altro ok Ali, qualche ripianto, dimmi cosa c'è che non va, ultime parole c'era proprio una conversazione aperta con me stessa in cui proprio ero sicura che sarei morta stavo cominciando ad accettare la mia morte, 100%, c'ero tipo ok, dopo il pensiero si è voluto ok adesso morirò, va bene, alla fine qualcosa di buono l'ho fatto, sto morendo, non fa niente ok Ali, non piombare nel panico, spero solo che succeda nei primi 10 minuti come in tutti gli aerei ti prego fa che siano i primi 10 minuti perché sono sicura che morirò e non potrei sopportare di morire alla fine di questo viaggio perché mi sarei illusa di tutto il viaggio di essere salva invece poi morirò, robe del genere e io non so perché il mio cervello mi fa queste cose a volte ma io vi giuro che ero sicurissima che sarei morta, ero 100% sicura che sarei morta stavo anche fantasticando su tipo cosa c'è dopo la morte, tipo boh magari potrò dirlo io a mia mamma sotto forma di fantasma ma io ero sicurissima, ero sicurissima, io me la sentivo malissimo, avevo proprio una sensazione negativissima ero proprio sicura, prima volta è unica che mi è successa una cosa del genere, io ero sicura che sarei morta ci ha voluto solo qualche minuto per farmi accettare completamente la mia dipartita cioè è stata un'esperienza assurda e immaginate il mio sollievo para delusione nello scoprire che invece sarei sopravvissuta perché alla fine sono scesa dall'aereo e devo dire che ero molto stupita cioè ero letteralmente molto molto stupita quando l'aereo è sceso, quando l'aereo è arrivato a destinazione ed eravamo tutti vivi, io ci sono rimasta, ero sconvolta, ero così tanto sicura che saremmo morti, che io ero sconvolta e niente, questa è un po' la storiella, ditemi se avete anche voi esperienze del genere, non fatemi sentire sola volevo giusto raccontarvi qualcosa, viva l'ansia che è sempre presente nella mia esistenza, lo sappiamo io vi voglio un sacco bene, ci vediamo la prossima volta